Resta in carcere ormai ex dirigente della protezione civile regionale della Puglia, Mario Rerario, arrestato il 23 dicembre in fraganza di reato dopo aver intascato una tangente a 10.000 euro. Contestualmente alla convaida dell'arresto e all'applicazione della misura cautelare per Rerario, la GIP del Tribunale di Bari, Anna Perrelli, ha disposto gli arresti domiciliari per due imprenditori, Luca Ciro Giovanni Leccese di Foggia e Donato Mottola di Noci. Il primo è accusato di corruzione in concorso con Rerario per la tangente che è costata al dirigente l'arresto in fraganza. Il secondo è accusato di un'altra corruzione per una tangente da 20.000 euro, consegnata allo stesso Rerario il giorno prima. Intanto la politica regionale chiede chiarimenti su quanto è accaduto ed è proprio con nota stampa che Fratelli d'Italia chiede perché ad oggi non sia stata costituita una commissione d'inchiesta, come era stato chiesto dal gruppo consigliare della Meloni. Dopo le ultime vicende giudiziarie che hanno travolto e stravolto i vertici della sanità e della protezione civile, siamo ancora più rammaricati per l'occasione mancata. L'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid in Puglia. Una richiesta presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia è che la maggioranza, giallo-rossa, ha bocciato senza esitazioni e tentennamenti, scrivono i consiglieri.